Mi chiamo Giorgio Bolla, detto il Trapulini. Trapulini perché tutte le famiglie di Varazze hanno un soprannome, invece nel cognome hanno soprannome, come i miei vicini Pimpinelli, Ibai Suin, Lebesan Bane. Non si capisce anche in Mancaghetta. Ora non si capisce bene il significato dei soprannomi, ma in Mancaghetta forse si capisce. Io come tanti i Varazzini ho fatto il nautico e poi sono diventato comandante, come mio fratello e come tanti altri che sono stati comandanti di navi qua a Varazzia, perché è una tradizione proprio del paese. Poi facevo anche pescatore e si vede nella foto che al centro c'è mio papà, da un lato mio fratello e dall'altro ci sono io. Abbiamo preso 130 orate, quella volta lì, da 5 a 7 kg. E le ho prese anche con le mani, perché le orate quando vedono la rete si mettono sotto la sabbia, e uno va lì e prende l'orata con le mani, e prende sabbia orata, e quindi i pescatori dicevano che noi non potevamo prendere il pesce con le mani, perché era impossibile prendere, invece sono stato il primo a prenderle. Fuori misura è detto il negozio delle cose strane, perché abbiamo articoli innovativi e curiosi dei regalo per tutte le tasche. Cartel, Caligaris e Slump sono alcuni dei nostri prestigiosi marchi. Creiamo soluzioni personalizzate su misura, sfruttando al meglio i vostri spazi. Cosa fondamentale, curiamo direttamente ogni particolare, dalla progettazione al trasporto all'accurato montaggio. Fuori misura. Uno, due, tre... Che che? Dal nostro laboratorio sono sempre usciti prodotti fatti con materie prime di qualità e senza alcun conservante. Sulle spiagge di Varazze Celle, tutti i bagnanti aspettano il nostro richiamo per accapararsi un craft in caldo. Da punto dolce trovate le nostre focacce, i nostri panni a lievitazione naturale, i nostri grissini, tutto senza strutto. E da poco la nostra già famosissima e apprezzatissima focaccia alla piastra. Il nostro dolce e il nostro salato per feste di compleanni, lauree e tutti gli eventi che vi stanno a cuore. Ricordo gli anni d'oro di Varazze in cui le signore andavano al curso al Margherita con abiti da sera colorati e bei gioielli. Ricordo il carnevale bianco del 71 che eravamo tutti vestiti in stile 800 e tutti i commercianti avevano esposto le fotografie di Varazze antica e ci siamo divertiti tutta la sera fino alla premiazione dove eravamo al curso al Margherita e io ho avuto il premio. Sono tanti i racconti della Varazze di un tempo, ce ne sarebbe da dire a migliaia. All'età di 11 anni il zio Antonio dal negozio di frutta e verdura, 9 e mezza alle 10 preparavano le ceste da portare alle varie famiglie, di cui la famiglia di Walter Chiari. Anche negli anni che facevo il bagnino vicino al curso al Margherita, l'unica cosa che alla sera si aspettavano questi famosi cantanti, Caterina Caselli, Walter Chiari, Domenico Modugno. Erano gli anni 66-67, gli ultimi anni da bagnino, dopo sono partito per il militare ed era il comando il signor Sì. Bagni Mafalda Royal, uno stabilimento pensato per tutta la famiglia, dai bebè fino ai ragazzi che giocano nel nostro campo da beach volley, dove non si gioca solamente ma anche sede di grandi eventi. A luglio la 12 ore di beach volley, mentre ad agosto la 24 ore, in spiaggia l'aperitivo con spiagge vinili per un tuffo negli anni 80 e le serate in cui il gong è protagonista. I bagni Mafalda Royal, tradizione e innovazione nel vivere la spiaggia. Qualità, cortesia e prezzo, gastronomie del territorio, ma anche le grandi eccellenze di tutta la nostra bella Italia. La Casa del Formaggio in realtà è un castello di prelibatezze. Siamo una corsetteria dal 1958, reggiseni e costumi in coppe differenziate e consulenze di bra fitting per esaltare la diversa bellezza di ogni donna. Emporio Armani, Calvin Klein, Bickenberg, Chantel, Passionata, sono alcuni dei vari brand che la nostra continua selezione vi propone. Accessori, abiti mare, costumi e intimo uomo. E i pigiami per vestire le vostre notti. Qui siamo in mezzo alle barche, però alle nostre spalle abbiamo la Madonna della Guardia, il Monte Begua, dove ci sono dei fantastici sentieri curati dalla nostra associazione, i BIT. Principalmente ci occupiamo della manutenzione dei sentieri, ma offriamo anche un servizio navetta con guide escursionistiche. Varazze è una città di sport, non solo acquatici, ma all'interno del territorio abbiamo dei sentieri adatti a tutti. La mountain bike offre a tutti la possibilità di scoprire un territorio diverso da quello che è il mare. Varazze offre diverse tipologie di sentiero, da quello più adatto a tutti, come la Z-Line, che si trova qui in cima al Begua, a quelli più adatti e più esperti, che ti permettono di fare dal top 1200 metri arrivare fino al livello del mare. Come sentiero easy noi intendiamo sentiero percorribile da tutte le persone, sono sentieri preparati appositamente, con sponde, pochi ostacoli. Invece per sentieri quelli più tecnici, più difficili, intendiamo sentieri che non sono adatti a tutti, sono aperti ad un pubblico un po' più specifico. A settembre Varazze ospiterà per il secondo anno consecutivo la tappa del circuito e-bike. Sono gare con bici elettriche, quindi bici con pedalata assistita. Varazze si presta molto bene a questo tipo di pratica sportiva. Veniteci a trovare sia con bici pedalata assistita o con la muscolare per i più pigroni. Abbiamo anche il servizio navetta, li porteremo in cima al Begua e li faremo scoprire il territorio. Mettendo le cose buone nel gelato, il gelato viene buono ed è quello che facciamo. Il nostro gelato alla frutta è fatto con frutta fresca e i nostri gelati alle creme sono fatti con latte fresco di alta qualità e panna fresca, che sembra banale dirlo, ma così banale non è. Usiamo solo prodotti di ottima qualità, pistacchio di bronte, la nocciola IGP e il nostro fondente particolare perché c'è un pizzico di sale. Verde mandarino è una gelateria artigianale sensoriale, così ci ricordiamo sempre che dobbiamo esaltare i sensi. Il Rugantino è un locale storico creato dalla nostra famiglia già negli anni Sessanta. Da sempre ci animano serietà e passione. Il nostro motto è non promettiamo mari e monti, li cuciniamo. La freschezza delle materie prime, orata, branzino, basilico e sottofiletto, tutto a chilometri zero e i dolci fatti da noi e per le pizze solo ed esclusivamente cotture in forno a legno, utilizzando solamente legno di faggio di bosco coltivato, gli unici avarazze. La pizza, quindi, ha un sapore di altri tempi. Qui c'è tutta la nostra buona volontà. Qui c'era l'orto di Papaberto. Un piccolo angolo di paradiso incastonato nel verde, immerso in un'oase di pace, cordialità, ospitalità, relax assicurato. Un posto unico per i vostri ricevimenti, perché la vignetta è residence, ristorante e anche wedding planner. Tra le tante cose, io sono anche ex, ex, ex pre-boy, perché quando ero ragazzo c'era alcune, diciamo, delle straniere. Qua Barazze venivano tutto il nord Europa, perché come venivano col treno, venivano svedesi, danesi, tedeschi, svizzere, e noi avevamo la cosa, per esempio, di dire tira l'acciuga per prendere il nasello. Nel caso, per esempio, c'era mamma e figlia, noi facevamo il filo prima la mamma e poi la mamma era ben contenta che alla sera la figlia riusciva con noi. Poi una volta è capitato che c'era una ragazza con un fratello e questo fratello era svedese, con i capelli biondi e quei tipi. Allora gli dico, vabbè, tiralo l'acciuga per prendere il nasello, ho preso sto ragazzo qua e gli ho fatto fare un giro sul Moscone. Però è successo che il vicino, il mio padre, gli ha detto, guarda, vedi con che bella ragazza è tuo figlio? Eh, da distante sembrava una bella ragazza. Poi però, quando sono arrivato a Riva, ci ha detto, guarda, che quello non è una ragazza, ma un ragazzo è stato messo una po' in difficoltà perché, insomma, a quei tempi non è come adesso che la cosa si è sdoganata, capisci? Il nostro negozio nasce nel 1930 con la mia bisnonna Teresa. Nel cuore del centro storico di Varazze, da quattro generazioni, ci occupiamo del comfort e della bellezza delle vostre calzature. Timberland, Clark, Jujo, diseguale. Dalla scarpa classica a quella di tendenza, Boggio vi offre di tutto e anche di più. Telefonia mobile e fissa, contratti anche con partita IVA, accessori, fast, wind e trap. Smart Varazze non è un freddo store, è un negozio di paese. Con i nostri clienti c'è più contatto umano e un rapporto di fiducia. Da Smart Varazze non sei un numero. Varazze è speciale perché è su misura e fuori misura. Varazze è speciale perché fate merenda in spiaggia con i nostri craft. Varazze è speciale perché ti fa vivere una vacanza al mare che non dimentichiamolo è da bandiera blu. Varazze è speciale perché qui alla Casa del Formaggio ogni giorno scopre un sapore diverso. Varazze è speciale perché Olga vi rende eleganti anche sotto l'ombrellone. Varazze è speciale perché abbiamo il mare, abbiamo il sole e abbiamo il gelato buono. Varazze è speciale perché qui da noi il tempo scorre lento. Varazze è speciale perché dal Residence della Vignetta è ancora più bella. Varazze è speciale perché i negozi storici come Boggio ci saranno sempre. Varazze è speciale perché ci siamo noi e siamo tutti connessi.